Noi siamo di fronte a un governo che con esponenti di primo peso ha mentito al Paese. Qualcuno gliele dovrà chiedere conto. A Reti Unificate hanno offerto una ricostruzione dei fatti che è stata smentita non solo da Sea-Watch prima, non solo dal buonsenso di chiunque conosca Di Mare, come ha ricordato De Falco adesso, ma è stata smentita da un procuratore che notoriamente fa il suo mestiere ma tutti sanno che non è stato uno che si è trattenuto nel cercare di verificare se per caso le famose e terribili ONG avessero fatto qualche scorrettezza. Dunque di fronte a questo dato hanno mentito Salvini, Toninelli, Di Maio, il governo italiano, ripetutamente, a Reti Unificate. Qualcuno gliene chiede conto, io credo che gliene dovremmo chiedere conto, anche in Parlamento. Quello che sta accadendo dimostra che i dubbi che alcuni di noi nel mio partito, ma diciamo molti di voi fuori dal mio partito, avevano espresso sulla strategia complessiva di governo di questo fenomeno e sugli accordi con la Libia, alcune di quelle perplessità non erano perplessità infondate, erano perplessità fondatissime. E che l'intera strategia, alla luce anche dell'evoluzione del quadro in Libia, che è peggiorato, è fallimentare. perché non garantisce il rispetto dei diritti umani, non garantisce la salvezza di vite umane e non ha garantito nemmeno la stabilizzazione della Libia, che rispetto a quando furono sottoscritti quegli accordi è peggiorata per altre ragioni, però diciamo è un dato di realtà. Io penso, e questo appunto lo dico soprattutto ai miei compagni di partito, noi abbiamo iniziato a sbagliare quando abbiamo iniziato a chiederci quanti ne sbarcano e non da cosa scappano. Un altro degli aspetti che mi ha particolarmente, mi ha reso felice a Siracusa è che loro hanno meno di 30 anni e il moto spontaneo che a Siracusa si è levato aveva intorno a 25 anni. È bellissimo, perché al di là di quello che ci vogliono far credere, il mondo non è fatto di odiatori, gli haters. Assolutamente no. È fatto di persone che vogliono combattere per l'altro e per se stesso, contemporaneamente. Perché combattere per l'altro, oltre un certo livello di indegnità, diventa combattere direttamente per se stessi. Quando un comandante di una nave deve decidere quale rotta, come dice Giorgia Linardi, deve eseguire meno vessatoria, traducendo forse dall'inglese. Allora, che cosa deve fare? Deve dirigere la prua, secondo voi, verso la direzione di provenienza della burrasca o dall'altra parte? Io ho preparato e la metto a disposizione dei colleghi una proposta di legge per l'istituzione di una commissione parlamentare di inchiesta sulle morti nel Mediterraneo e sull'operato della Guardia Costiera libica. Perché alla base di tutti questi episodi che noi abbiamo conosciuto e che in alcuni casi hanno dato luogo a indagini della Procura che hanno prodotto il nulla, nulla di penalmente rilevante, come è stato detto giustamente in apertura, e però ci sono degli elementi ricorrenti, delle dinamiche ricorrenti sul modo con cui opera la Guardia Costiera libica.